e ciao a tutti amici di youtube sono sempre io fabio ed oggi prima di iniziare l'argomento vi lancio una sfida interessante voglio giocare un po con voi da questo video in poi dovete indovinare il titolo del mio manga o anime preferito che ho impostato come sfondo del desktop riuniti tutti quanti sono 16 16 bellissimi capolavori che riguarderei il loop infinito alcuni sono estremamente intuibili altri possono risultare davvero particolare se no è troppo facile perciò fatemi sapere nei commenti la vostra risposta chi risponde in maniera esatta verrà menzionato in questi video o se eventualmente un canale youtube o un altro profilo social lo pubblicizzerò detto questo vediamo un programma partizionatore chiamato partition wizard utile per la gestione dei dischi come il recupero dei dati la migrazione di un sistema operativo su ssd la clonazione del disco la conversione da mbr gpt e tanto altro partition wizard è stato creato dalla mini tool abbiamo già visto questa software house in un video precedente nel mio canale youtube parlando di shade of maker che permette essenzialmente di creare dei backup questo software diciamo l'erede di partition magic per chi non lo sapesse era un software sempre partizionatore ma la sua chicca che lo distingueva dagli altri programmi similari era il supporto al ridimensionamento non distruttivo delle partizioni fat sia 16 che 32 ntfs e questo a parte usano wizards riprende questa caratteristica importante partiamo dallo scaricamento e dall'installazione vi ricordo che sono supportate varie lingue fra cui il nostro caro italiano e le edizioni più datate di windows come xp e vista accettate sempre le architetture 32 e 64 bit bisogna scaricare la versione corretta in base alle vostre esigenze ce ne sono tre la prima è la versione gratuita dove saranno presenti alcune limitazioni la seconda serve per chi devo soffrire di tutte le funzionalità per chi utilizza spesso il programma e la terza serve essenzialmente per il mondo enterprise come aziende uffici compagnie scuole eccetera perché è possibile gestire anche gli aspetti server una volta finita l'installazione con una dimensione su disco occupata a pari a 142 megabyte sarà avviata la prima schermata che raccoglie varie tiles che rimandano ad azioni specifiche andremo ad analizzare quelle più importanti quelle di destra servono per il chain log dove possiamo notare che come ultima novità è stata aggiunta la nostra lingua poi il manuale online maniera da semplificarvi le operazioni ed infine lo scaricamento di shadow maker magari poi per approfondire potete vedere il mio video a riguardo parlando comunque di questa schermata possiamo dire che è stata notevolmente migliorata ed assimilata la grafica di windows 10 prima c'erano solamente due bottoni che consentivano di passare alla dashboard delle funzioni al manuale in linea come nella nona versione dalla decima appunto è migliorata di gran lunga ora però andiamo a vedere la prima funzionalità che troviamo ovvero recupero dati sarà avviato un'analisi veloce per ricavare le informazioni dei vari spazi di memoria attivi infatti non saranno presenti solo i dischi del pc ma anche ogni periferica di memorizzazione esterna collegata come hard disk pennino usb sd micro sd che più ne ha più ne metta in questa finestra accompagnano quelli attualmente presenti se non riusciamo a visualizzarne uno in particolare possiamo aggiornare la finestra stessa prima di procedere alla scansione abbiamo la possibilità di personalizzarla attraverso delle impostazioni in modo tale da far trovare solo degli specifici file se siete insicuri di avviare la procedura potete affidarvi alla guida online in modo da chiarire ogni perplessità analizziamo un attimo l'interfaccia come prima cosa abbiamo il risultato del ripristino questa sezione mostra l'ultimo record scansionato ed è possibile caricare manualmente il risultato per controllare direttamente il file da recuperare poi abbiamo le unità logiche questa sezione mostrerà tutte le partizioni esistenti sul disco inclusi dispositivi rimovibili come l'unità usb le partizioni che non hanno lettere di unità sono disposte alla fine dell'elenco può comparire una sezione in base alla situazione quella chiamata partizione persa questa sezione mostra tutte le partizioni perse quindi gli utenti possono recuperare i dati da esse poi ci può essere anche la sezione spazio non allocato dove mostra tutti gli spazi non allocati sul computer ed infine abbiamo disco rigido questa sezione elenca tutti i dischi rigidi sul computer nel mio caso nel presente solo uno con una dimensione di quasi 2 terabyte naturalmente la scansione durerà in base alla dimensione della memoria presa in considerazione la cosa comoda è che se abbiamo trovato il file che cercavamo possiamo far fermare subito la scansione in maniera da recuperarlo senza aspettare il termine dell'operazione totale per ripristinare il file basta salvarlo su un percorso desiderato però se disponibile visualizzate l'anteprima in modo da essere sicuri che il file sia proprio quello giusto ho detto se disponibile perché il programma supporta la visualizzazione di 70 tipi di file naturalmente i file trovati sono suddivisi per categoria in modo da accelerare la ricerca più rapidamente potete usufruire anche dei filtri se vogliamo visualizzare invece solo i file persi c'è l'apposito bottone se siamo sicuri che il file perso si trovi qui ma non riusciamo a trovarlo con tutte le funzioni viste finora è possibile cercarlo manualmente attraverso il tasto cerca l'opzione match case richiede agli utenti di prestare attenzione alla lettera maiuscola e al nome del file l'opzione match world invece richiede di digitare il nome completo del file inclusa la sua estensione per il salvataggio cercate di salvare il file su un'altra periferica questo per un fatto di sovrascrittura se inoltre non è il momento giusto per salvare perché magari i dati sono tanti non volete tenere accesa ancora il pc potete salvare la scansione attraverso un file rss in maniera da poter effettuare il salvataggio in qualsiasi momento basta aprire il programma ed utilizzare la prima sezione che abbiamo visto in precedenza quella chiamata risultato del ripristino che ne dite ora di provare ad unire più partizioni questo è molto utile se si vuole concentrare tutti i dati in un singolo spazio in maniera da non creare confusione attenzione però la procedura è valida solo per gli ntfs se la vostra partizione è formattata con il file system fat indipendentemente che sia il 12 il 16 il 32 si può rimediare grazie alla funzione di conversione per trasformarla in ntfs però adesso focalizziamoci su quello che dobbiamo fare selezionate la partizione in oggetto aprite la tendina e cliccate su unisci in questa finestra gli utenti possono notare che il software ha già specificato la partizione selezionata da espandere quindi bisogna solo fare clic sul pulsante avanti per continuare nella finestra successiva occorre selezionare la partizione da includere in quella precedente che è segnata con una spunta nera successivamente bisognerà dare un nome alla cartella che conterrà il contenuto della partizione selezionata e in conclusione clic su fine nell'interfaccia principale controllate l'effettiva unione della partizione se come previsto clic su applica nell'angolo in alto a sinistra per confermare il tutto vediamo ora come aumentare lo spazio di una partizione utilizzando lo spazio libero di altre partizioni l'operazione è semplice ed immediata basta scegliere la quantità di memoria che verrà aggiunta la partizione desiderata stanno attenti però a non diminuirne troppa per la partizione coinvolta quando abbiamo settato l'intensità possiamo cliccare su ok e successivamente applicarla tramite l'apposito bottone insomma ci sono tante funzioni per personalizzare e gestire nel migliore dei modi le partizioni e le unità presenti nel pc le altre non ve le sto a mostrare visto che le operazioni per accederci ed applicarle sono uguali a come le avete viste negli esempi prima le menziono velocemente giusto per farvi capire cosa è possibile fare migrazione sistema operativo su ssd o hdd copiatura partizione copiatura intero disco recupero partizione spostamento ridimensionamento partizione estensione partizione unione partizione divisione partizione modifica della dimensione del cluster conversione da ntfs infatti o viceversa eliminazione partizione formattazione partizione allineamento partizione azzeramento partizione impostazione dell'etichetta modifica dell'id partizione modifica del numero seriale controllo del file system esplorazione partizione test della superficie proprietà partizione e recupero dati che abbiamo visto prima un bel po' di funzioni vero parlato in generale di questo programma bisogna fare alcune considerazioni e avvertenze innanzitutto questo software è abbastanza particolare quindi per esigenze specifiche però non toglie il fatto che può essere utilizzato da tutti non ha bisogno di conoscenze approfondite è consigliato per chi lavora spesso sui dischi sarebbe inutile per esempio comprare la licenza se lo utilizzasse una sola volta è consigliato anche per chi vuole fare dei dual boot in maniera da installare più sistemi operativi in un singolo pc ad esempio se voglio avere da una parte windows e dall'altra una distribuzione linux un'altra cosa da dire riguarda il fatto del contrasto con altre operazioni simili perché se si sta svolgendo una determinata operazione all'interno di questo software se in concomitanza ne state facendo un altro uguale o simile con un altro programma ci può essere un malfunzionamento del disco e dei dischi in uso perciò è altamente consigliato utilizzare un programma alla volta bene per questa spiegazione tutto spero che possa essere utile a molti il programma è possibile scaricarlo dal link in basso alla descrizione per il supporto lasciate un mi piace e fate sapere cosa ne pensate nello spazio dedicato ai commenti noi ci vediamo ad un prossimo video ciao